Buongiorno, sono Finetti Lorenzo di Amade Italia, multinazionale operante in tutti i paesi del mondo nella produzione di macchine per lavorazione della lamiera. Mi occupo di General Administration e Marketing Department. Siamo qui presenti alla lamiera con tre macchine laser e tre presse piegatrici. Lanciamo sul mercato italiano questo modello, l'LCG in versione fibra e presentiamo il nostro fiorello chiello nell'ambito della piegatura rappresentato dalla pressa piegatrice HD con cabio utensile automatico. Siamo presenti qui a lamiera come storicamente rappresenta l'evento italiano migliore, più importante. Abbiamo aumentato la nostra partecipazione portando anche la parte dell'after sales, del post vendita su cui puntiamo molto per fornire ai nostri clienti una soluzione globale.